Cari avventurieri, eccoci giunti alla sfida settimanale. Il nemico che dovrete affrontare è un piccolissimo gigante a due teste di 4 metri dotato di uno spadone capace di uccidere 10 uomini contemporaneamente. Eravate alla ricerca di una reliquia, ma sfortunatamente avete trovato lui. Il vostro personaggio è un mago, come arma il suo bastone, e come magie, palla di fuoco, utilizzabile solamente una volta, e copia illusoria, cioè può creare una copia di se stesso, magari per attirare l'attenzione. Il luogo in cui vi trovate è una montagna, non vi sono né alberi né vegetazione, solamente rocce e neve. Quindi se non vi affrettate a sconfiggere il gigante, sarà il freddo ad uccidervi. Ricordate di svolgere sempre un'azione creativa che possa stupire il master. Simbolo del muscolo, avete superato la prova. Simbolo del teschio, ahimè, vi troveranno sicuramente tagliati in due e seppelliti nel ghiaccio. Buon divertimento!